Grazie per tutto quello che avete fatto in questo periodo, per tutto quello che avete costruito. E che dire delle battaglie che avete sostenuto per la qualità del nostro cibo. Ho diventato socio da qualche tempo e ho fatto mie le vostre battaglie, ho fatto mie i vostri valori. E ritengo che sia una questione importantissima conoscere quello che mangiamo e difendere la qualità dei nostri cibi. Perché dalla difesa della qualità dei nostri cibi dipende anche la qualità della nostra vita. Insomma vi voglio ringraziare per quello che fate da 25 anni, per la difesa e la conoscenza di quello che mangiamo e di quello che beviamo. Questo messaggio lo sto incidendo prima del referendum, quindi non lo so che cosa accadrà. So solo che è importantissimo difendere anche la nostra acqua. Vi saluto con un pensiero rivolto all'acqua che è una frase di Diogene Laerzio che dice che Ho gettato la mia tazza quando ho visto un bambino che beveva dalle mani. Auguri. Grazie.